A volte il segreto per apprezzare davvero qualcosa è avere delle aspettative piuttosto basse, o non averne nessuna, oppure farsi sorprendere da qualcosa, un film in questo caso, che non avevamo nemmeno in previsione di vedere. È un metodo che funziona, l'ho già accennato altre volte, anche nel Lost Boy Show, e sì, 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 decisamente non sempre, ma è un sistema che dà dei risultati. Ed è quello che è successo a me oggi, vedendo Il Migliore dei Mondi, film del 2003, appena uscito per Prime Video, diretto da Danilo Carlani e Alessio Dugana, e soprattutto da Maccio Capatonda, che è anche il protagonista principale del film. Maccio Capatonda lo conosciamo tutti, ma qui ci ha voluto anche un po' sorprendere. Bentornati su Plutonia Publication Podcast, io sono Alessandro, questo è il mio podcast, sono un autore, scrittore, youtuber, podcaster, insomma lo sapete, questo annuncio è soprattutto per chi arriva qui per la prima volta, e visto che ce ne sono persone che arrivano qui per la prima volta ogni settimana, e il pubblico quindi va espandendosi, mi piace presentarmi e darvi il benvenuto. Il film di cui parleremo oggi, dicevo, è Il Migliore dei Mondi, che è stato appena messo in streaming su Prime Video, è un film, una commedia, a tratti surreale, un po' meno surreale delle altre cose di Maccio Capatonda, è anche un film che stranamente, ma neanche poi troppo, entra nel particolare sottofilone della fantascienza ucronica, che in particolare in Italia ha pochissimi, forse nessun titolo. La cosa mi ha sorpreso. Allora, la trama, la trama in breve, siamo nel 2023, Egno Storto, che è Maccio Capatonda, è un uomo triste, metodico, ma che si crede un figo, vive immerso nella tecnologia, ha una vita monotona, priva di particolari scossoni emotivi, scandita dai social e dalla tecnologia, quindi la sua casa è tutta, come si dice, domotizzata con assistenti digitali e vocali, passa le sue mattinate in bagno a scorrere il cellulare prima di andare al lavoro, quindi si concede un po' di porno online con delle categorie ben specifiche su Pornhub, che apprezza particolarmente, quindi si reca sul posto di lavoro in auto, utilizzando rigorosamente il navigatore, perché non si ricorda la strada anche se la fa da anni e gestisce qualsiasi incontro sentimentale attraverso applicazioni, gli stessi incontri, gli stessi appuntamenti sono preparati accuratamente guardando le recensioni dei ristoranti e infine indagando attraverso i profili social delle tipe con cui esce sui loro gusti per poi poterle stupire con citazioni dei loro film preferiti, dei loro film preferiti e cose del genere, insomma una vita metodica che è scandita proprio in modo assolutamente certosino, soprattutto dallo smartphone. Il suo unico vero amico, perché questi incontri sono incontri di sesso primariamente con le donne, il suo unico vero amico è il fratello Alfredo, ex rivoluzionario, piccolo spacciatore che gestisce con lui il negozio di elettronica di famiglia. Poi cosa succede? Nel tentativo di aggiustare un vecchio modem, Egno viene trasportato in un universo parallelo nel 2023, in un universo parallelo dove il progresso tecnologico a seguito del millennium bug, avvenuto nel 2000, come dicevano dovesse avvenire anche da noi, ha portato un caos, ha portato al crollo delle banche, al crollo della tecnologia e tutto quanto, perciò il progresso è stato fermato per legge al 1999 e il mondo è rimasto fermo tecnologicamente parlando agli anni 90, quindi abbiamo internet in versione lenta, non abbiamo assistenti digitali nei vocali, non abbiamo cellulari, non abbiamo la connessione rapide, i navigatori, tutte le cose che Egno era solito utilizzare, che praticamente gestivano la sua vita, non esistono più e per lui è un grosso trauma, è un grosso trauma perché si accorge di non riuscire nemmeno guidare per pochi chilometri senza un navigatore, di non riuscire a eccitarsi senza usare Pornhub, di non essere in grado neanche di preparare una colazione nei tempi giusti senza l'ausilio di Alexa e tante altre cose, ma soprattutto si accorge di non avere neanche una vita sessuale perché non è in grado di gestire e preparare un appuntamento vecchio stile senza l'utilizzo di Tinder, dei social e di tutte le applicazioni che conosciamo bene. Qui però piano 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 piano, vivendo pur da cani inizialmente, si innamora di Viola, una ragazza che fa parte di una comunità che si batte segretamente per la nuova diffusione del progresso tecnologico che, ricordiamo, in questo universo parallelo è vietato per legge. Chi cerca di portare la tecnologia oltre il limite, diciamo così genericamente, del modem a 56k viene considerato un criminale passibile di Ergastolo. Ennio si innamora di Viola, ma casualmente, in realtà la sta cercando perché possiede un modem che dovrebbe essere, in teoria, in grado di riportarlo nel suo mondo, nel suo universo. Poi succedono una serie di cose, gli amici di Viola scoprono lo smartphone che Ennio si è portato appresso in tasca dal suo mondo, dal nostro mondo e da una via alla seconda parte del film che è molto meno commedia e molto più thriller fantascientifico, anche se comico, e che sembra strano parlando di un film di Maccio Capatonda, ma in realtà funziona molto bene. È un film che diverte, che, adesso dico questa frase che dicono tutti, ma in parte è vera per questo film, fa pensare, fa pensare e fra un momento ci torniamo, e anche dei plot twist interessanti. Uno in particolare, non ve lo posso spoilerare, tuttavia, vi posso dare un indizio, nel sua disperata ricerca di un sistema per tornare nel suo universo d'origine, il povero Maccio viene a scoprire di un misterioso guru della tecnologia bandito dagli Stati Uniti che si sarebbe rifugiato in un paesino in provincia di Lecce. Copertino. Non vi dico nient'altro. Allora, il film è insieme di trovate surreali, come nella comicità di Maccio, ma anche intelligenti. Ovviamente è una riflessione a tratti un po' grossolana, ma non lontana dalla realtà, di quanto il nostro mondo sia totalmente dipendente dalla tecnologia. Ciò che fa Egno, che ci mostra un bacio nella prima parte del film, la sua routine, la routine del suo personaggio, non è dissimile da quella di molti di noi. Io stesso fatico, non lo ammetto senza vergogna, a trovare una strada, a fare una strada senza l'usile del navigatore. Un'amma il navigatore mi è indispensabile per compiere qualsiasi viaggio in macchina, anche quelli che ho fatto più di una volta. Così come i social monopolizzano parte del mio tempo, io uso i social con successo devo dire, per compiere diverse cose, prenotare, pagare, vedere recensioni, prenotare aerei, parcheggi, ristoranti, pagare bollette, prenotare visite mediche, per qualsiasi cosa. I miei assistenti vocali sono un po' un vezzo ma le utilizzo, insomma, pornografia online chi non l'ha mai sfruttata una o più volte nella vita. Quindi sono tutte cose, sono tutte cose che Maccio descrive che corrispondono alla realtà. Ed è stato molto interessante fare questo tuffo nel passato, anzi non nel passato, in un universo alternativo in cui la tecnologia è ferma 24 anni nel passato, per cercare di ricordare attraverso le disavventure del protagonista come cacchio vivevamo senza tutta questa tecnologia. E vivevamo in modo nettamente diverso. La morale del film, se vogliamo parlare di morale, è che avevamo più libertà, anche libertà di sbagliare, di fare cazzate, ma eravamo meno condizionati, eravamo meno prigionieri di tutte queste applicazioni che comunque ci sono indispensabili e interagivamo in modo differente sia col mondo esterno che tra di noi esseri umani, anche in campo sentimentale, nonché lavorativo. Però ecco, Maccio, quello che mi piace è che non sceglie di andare fino in fondo in questa rappresentazione un po' boomeristica di una filosofia di vita, perché sulla fine sembra proprio virare al contrario. Adesso non voglio fare troppi spoiler, però quando si unisce o in qualche modo viene coinvolto, da prima involontariamente, poi un po' meno, da questo gruppo di rivoluzionari clandestini che cercano di sviluppare quella tecnologia che in questo universo parallelo si è fermata nel 99, riesce a capire che forse un giusto incrocio, una giusta media tra le due cose, tecnologia, ma che non sia schiavizzante può essere un modo per vivere sereni e che comunque, una cosa che capisci, che io condivido pienamente, rinunciare alla tecnologia non è comunque la scelta migliore. Dobbiamo fare in modo, questa è una morale del finché non ha una morale, tutto sommato, perché Maccio non mette pesanti carichi di moralismo, però dobbiamo fare in modo di riuscire a comportarci da essere umani senza rinunciare però al mondo che avanza e alla tecnologia che, come si vede in una scena particolare alla fine del film, comunque promette di mettere in comunicazione il mondo e le persone di tutto il mondo, cosa che prima o non avveniva o avveniva in modo diverso. Allora, al di là di tutto questo il film è molto interessante, è un film italianissimo che mi ha stupito, in positivo, è prodotto dalla Lotus Production, è appunto distribuito da Prime Video e devo dire che vi potrebbe piacere anche se non sopportate Maccio, perché secondo me molti di voi, almeno per quanto ho sentito dire, molte persone non amano l'umorismo di Maccio Capatonda. A me è piaciuto sempre, con alti e bassi, ma questo film è veramente gradevole, veramente gradevole perché in fondo, lo ricordiamo di nuovo, è un film che parla di fantascienza, di universi paralleli e di ocronie, cosa che io non avrei mai pensato di accostare in vita mia alla figura di Maccio Capatonda. Ma sono lietissimo di essere stato sorpreso, di aver avuto questo piacevole regalo da parte di Prime Video, che tra l'altro ho avviato il film perché non cercavo nulla di impegnativo, bensì qualcosa da guardare mentre lavoravo ed è avvenuto l'esatto contrario, ovvero mi sono concentrato molto più sul film, sacrificando un'ora e mezza di lavoro, ma con grande piacere. Voi guardatelo, poi fatemi sapere se anche a voi ha dato queste belle sensazioni, non parliamo mai di cose memorabili, però è un film che è gradevole, soprattutto per chi gli anni 90, fine anni 90, tecnologicamente parlando li ha vissuti, io li ho vissuti, proprio essendo uno dei primi almeno delle mie zone a collegarmi su internet, solo da casa, solo dal computer, esplorando, entrando in un mondo nuovo con quell'entusiasmo che si vede da parte di alcuni dei personaggi del film, dell'universo parallelo, che appunto cercano di entrare in internet nonostante i veti governativi e si stupiscono, è una scena molto carina, ma anche molto realistica, mentre una pagina di un vecchio computer, un 486 o qualcosa del genere, carica in modo lentissimo un sito che trasmette un'immagine fissa di una webcam di New York. Questi sono estasiati come se scoprissero un nuovo pianeta, io mi sono ricordato che quelle sensazioni lì le ho provate anch'io nel 97-98, quando mi sono collegato dapprima dall'università, dal laboratorio informatico dell'università di Milano, e poi da casa mia col primo modem, col primo collegamento a internet, con la messaggistica che è venuta dopo, i forum, i siti che andavano pian piano aumentando, insomma, è stato un bel trip, anche in questo senso, il fin di maccio. Guardatelo, guardatelo se cercate qualcosa di diverso, di non impegnativo, ma nemmeno di estremamente stupido. Per il resto che dire, mettetemi un like o una recensione su Spotify, se mi seguite lì, se mi sentite lì, oppure un like su YouTube, seguitemi su Instagram, seguite anche Lost Boys su Instagram, e ci risentiamo prestissimo, anche con una nuova puntata di Lost Boys, e sempre, sempre, settimanalmente con questo podcast, che non si è fermato, praticamente mai, se non in rarissime occasioni. Io vi auguro buona visione, e buoni ricordi per chi quella fase lì dell'internet 1.0 l'ha anche vissuta.